Italiano bello. Storie e letture in italiano. Avventura in montagna. Sei. Speranza. Padroncina! Padroncina! In preda al panico, continuo a chiamarla. Corro avanti indietro, sperando di rivederla, di sentire la sua voce. Chiera, silenzio! Si avvicina qualcosa, dice Cody. Oh no, di nuovo il cinghiale? Ma no, non è il cinghiale, è amicone. Ha i capelli tutti arruffati e indossa la sua giacca sopra il pigiama. Perché state abbaiando? E dov'è Ellie? Chiede lui sbadigliando. È caduta giù! Abbaio io e gli mostro il punto dove padroncina è caduta. Amicone guarda giù e poi sembra capire cos'è successo. Il suo viso perde colore e con mani tremanti tira fuori il cellulare dalla tasca della giacca. Cazzo! Esclama. Devo cercare un punto dove c'è campo. Voi restate qui. E corre via. Non riesco a smettere di abbaiare. Sono troppo agitata. Kira, calmati e ascolta. Cody si avvicina al dirupo con cautela. Anch'io mi avvicino in silenzio e ascolto. Poi lo sento. Acqua. Sotto di noi, a molti metri di distanza, c'è un fiume. Kira, dobbiamo trovare quel fiume. Forse possiamo ancora salvare padroncina.